Tifosi Nerazzurri, un saluto da Filippo Sartirana, benvenuti allo stadio Breda di Sesto San Giovanni. Comincia la stagione 21-22 della primavera interista, la nuova primavera di Christian Chivu. È tutto pronto per il fischio d'inizio, si aspetta solo il via del signor Di Cairano, che è l'arbitro di giornata. Il primo pallone sarà per l'Atalanta con Alessio Rosa sul punto di battuta. Stagione 21-22 che inizia ora Zanotti. Cecchini Muller, alza la testa, lancia a cercare l'inserimento di Carboni, che ha un po' di spazio, prova l'autolanciarsi con la testa Carboni in area di rigore. Carboni prova al sinistro e in diagonale. Una cosa a metà tra un tiro e un cross, non arriva Owusu. Abiuso dà una gran palla per Nunziatini, che entra in area di rigore, Nunziatini ce l'ha sul sinistro. Sfiora il palo, alla destra di Dachkar. Sono Berto, Sidibe, Fisic, pallone che va a cercare, Giovane, palo per l'Atalanta. E poi Giovane sulla ribattuta, la mette fuori. Colpo di testa di Giovane, Bottis in qualche modo, la manda sul palo. Abiuso, prova la finta di corpo, grande giocata di Abiuso su Berto, fa una gran cosa. In mezzo c'è Jürgens sul secondo palo Carboni, le crossa, cercare Jürgens, di testa! La mette fuori, da ottima posizione. Pallone in profondità per Jürgens, che la mette giù benissimo. Jürgens in area di rigore, grande sterzata. Jürgens con il destro, Dachkar, ma la palla non entra. Incredibile. Bellissimo lo stop di Jürgens, bellissima la sterzata. Destro che Dachkar pare in qualche modo. Corner. In mezzo Fabian, Moretti, Oti, Jürgens, Abiuso. Eccolo il crossa, cercare la testa di Fabian. Arriva dietro Oti, Dachkar. Salva ancora l'Atalanta. Pronto Carboni con le mani. Jürgens. In mezzo cercare Fabian al limite. Zanotti, carica al destro, deviato, pallone che diventa buono per Abiuso, che caccia in porta! Splendido gol! Il primo stagionale dell'Inter di Kivu è di Abiuso al minuto 35. 1-0. Bella la giocata di Jürgens, intelligente la sponda di Fabian, fortunato. Poi invece Zanotti nel rimpallo. Sfera che diventa buona per Abiuso, che controlla e calcia l'attaccante vero. Insiste l'Inter con Owusu, pallone in profondità. Jürgens col piattone, traversa, poi il tap-in di Fabian. Arriva subito il 2-0 in un minuto. Prima Abiuso, poi Fabian, 2-0 Inter. Abiuso, bravissimo a giocare in direzione di Jürgens, che calce, colpisce la traversa dopo un'altra diviazione. Fabian a porta vuota, tutto facile per lui mettere dentro il gol del 2-0. Si chiude senza recupero il primo tempo, 2-0 per l'Inter, tra gli applausi del Breda. Verticale, il tocco di Oliveri, va a cercare Omar, finta di corpo, bella su Moretti. Omar ce l'ha sul destro, Omar calcia in porta. Allarga il norvegese dalle parti di Bernasconi. Profondità chiamata da Omar, molto mobile, da destra a sinistra, Omar uno contro uno, salta il primo. Omar in area di rigore, entra sul destro, e riapre la partita. La mette sotto l'incrocio, al minuto 70, Omar. Allarga tutto per Oliveri, ormai stabilmente largo a destra. Il cross di Oliveri, in mezzo cerca il colpo di testa di Omar. 2-2. Incredibile. Il pallone Goffi, Zanotti si affida invece a Peschetola, più vicino. Prova ad andare sul sinistro Peschetola. Il cross di Peschetola è buono per Carboni col piattone! Tra due! Franco Carboni la mette dentro all'incrocio. Che palla di Peschetola, piattone di Carboni è 3-2. Grandissimo, traccia di Peschetola col sinistro, puntuale l'inserimento di Carboni, col piattone. La mette sotto la traversa. Non c'è più tempo, finisce qui, finisce 3-2 per l'Inter. Che vince nella prima giornata della stagione 21-22.